Sopravvissuti, quarta puntata, Luca svela la verità su Armando. Sopravvissuti va avanti e, nel corso della quarta puntata, continueranno ad emergere sempre più verità su quello che è successo a bordo della nave Arianna. Luca deciderà infatti di fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato al decesso di Armando. Nel frattempo, i superstiti verranno bersagliati da insulti e minacce, e cercheranno di trovare il responsabile. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Sopravvissuti, dove eravamo rimasti? Anita continua ad indagare instancabilmente su quello che è accaduto, a bordo della nave Arianna. La donna, sempre più ossessionata, finisce di nuovo un piccolo cieco, che non le offre alcuna risposta. Anita, così, capisce che forse si sta ammalando per questa cosa, e che magari i sopravvissuti hanno raccontato la verità. Luca decide di riavvicinarsi alla sua famiglia, visto che ora finalmente l'ha ritrovata. Nel passato, sulla nave Arianna infuria un'epidemia che diventa ingestibile. Tutti cercano di organizzare delle quarantene per chi è infetto, ed evitare che la situazione peggiori. La vicenda però crea nuove tensioni. Nel presente Silvia ha sempre più dubbi sul comportamento di Luca, e vuole indagare a fondo per scoprire cosa spinge suo marito, a fare così. La donna arriva addirittura al punto di salire a bordo del relitto, per cercare di capire cosa abbia provato suo marito. Sopravvissuti, quarta puntata, i superstiti vengono minacciati. Nel tempo presente, nel corso della quarta puntata, i sopravvissuti devono fare i conti con un evento, che destabilizza tutti loro. Sui muri delle abitazioni di ciascun superstite compaiono delle scritte misteriose. Contengono insulti e minacce ed anche l'accusa di essere degli assassini. Un evento del genere sconvolge tutti, ma aumenta anche la tensione tra i superstiti, che diventano molto sospettosi e si domandano chi possa essere stato. Ovviamente tutti capiscono che c'è qualcuno che conosce le loro storie, ed intende metterli sotto pressione. I sospetti di tutti si concentrano dapprima su Anita, che ha sempre nutrito molti dubbi su tutti loro, ed in secondo luogo su Lea. Quest'ultima non riesce a sopportare di poter essere vista, come un pericolo dalle persone con cui ha condiviso quell'incubo. Per questo motivo, sempre più stanca della situazione che si è venuta a creare, Lea prende una decisione drastica. Vuole allontanarsi da tutto quello che è successo e fuggire. La donna inizia a progettare la sua fuga insieme alla sua sorella gemella, così potranno allontanarsi da Genova per sempre. Sopravvissuti, quarta puntata, Luca racconta tutto sul decesso di Armando. Lea e la sua sorella gemella non riescono a portare a termine il piano. Un evento inaspettato impedisce loro di allontanarsi da Genova, e così le due non riescono a scappare. Tornando nel passato, intanto, si scopre che Armando aveva chiesto a Lea, di sposarsi con lui proprio a bordo della nave Arianna. I superstiti, intanto, cominciano a rendersi sempre più conto di essere in pericolo di vita. C'è qualcuno che li vuole assassinare e rischia di essere pericoloso. Anita trova una prova schiacciante che dimostra che Armando era vivo, ben oltre il giorno in cui c'era stata la tempesta, e quindi i sopravvissuti hanno mentito. La poliziotta mette subito Luca con le spalle al muro. Quest'ultimo decide di confessare la verità e racconta nei minimi dettagli le sconcertanti dinamiche che hanno portato al decesso di Armando. Silvia è sconvolta e teme di aver sposato un uomo che non conosce fino in fondo. Dal canto suo, Anita non è sorpresa e al contempo non crede fino in fondo. Che Luca abbia dato, questa volta, la corretta versione dei fatti. Voi che cosa ne pensate? Questa fiction vi sta appassionando e secondo voi cosa sta nascondendo Luca, insieme a tutti gli altri superstiti della nave Arianna? A voi i commenti. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Grazie a tutti.